La folla striscia. Il capitolo attuale della nostra storia calcistica ha come titolo Mario Belloccio. Belloccio è un giocatore che è una compagine di muscoli e di ossa. È un matador del toro folla. Da dove viene una popolarità come la sua? Silenzio. Lo stadio pende dai suoi calci. Sono una tela di ragno di agilità e di astuzia. I suoi piedi volano come una fiamma che costringe il filo a tessere la tela e poi il gol. Che fare perché lo stadio non esploda? La folla striscia ai piedi di Belloccio. Commento. Molti vivono di calcio e chi crede al destino trascendente dell'uomo si può stupire di tanta inconsapevolezza. Ma così dimostra di aver capito poco dell'insegnamento delle guide immateriali. Queste ripetono che ognuno è giusto così come è, perché ogni vita è creazione in atto. Creazione di che? Di un nuovo essere. Chi vive alla fascia della media evoluzione non applaude il nuovo essere che è già in lui, ma il nuovo essere di un eroe esterno a lui.